Questo applauso è per te! Cara la mia Vilma, ufficio vuole, tradizione vuole, regolamento vogliono che tu apra, prima di venire qui al mio fianco, il bussolotto del ritorno. Che dice? Rientri nella casa! Ale! Te l'aspettavi questo? E ora? E ora devo rientrare! Che famo? No, perché io già mi immaginavo il mio nipote che stava mettendo a posto casa! E invece dovrà aspettare, hai capito? Il tuo nipote e i cani devono aspettare! Eh, devono aspettare, sì! Sei contenta? Sì, sono contenta! E allora torna! Ero contenta anche di tornare a casa, ma vi abbraccio! Ciao, ma tu torna! Ciao Vilma! Continua la tua battaglia, la tua gara!